In realtà credo anche, e non mi sono ritrovato solo perché sono vicini alla mia generazione, alla mia classe, sono università, sono personaggi che in qualsiasi epoca hanno avuto queste difficoltà, difficoltà che fanno parte proprio in modo intenseco di relazionarsi in famiglia, difficoltà che è bello anche vedere come cercano comunque di superarle, tutti per questi due ragazzi, perché sostanzialmente nel loro sfogo anche cattivo, in questo condizio è stato straordinario di spuntare proprio l'accetta, all'affettire tifi per loro perché lo stanno facendo per un buon motivo, chiarirsi, trovare un'intesa, una famiglia, rimane la vita solo così. Io sono fortunatissimo, una famiglia sprendita, i miei genitori sono qui, ci siamo sempre battiteccati senza aver paura di farlo e tante volte penso forse è per questo che siamo insieme, forse è per questo che è la famiglia unita, perché bisogna assolutamente anche qui non avere paura di dirsi le cose per rimanere insieme, poi ovviamente quando proprio non si riesce a farlo, comprendo anche quelle situazioni in cui la famiglia arriva a decidere di separarsi, però il fatto che l'ho ottimo fino alla fine per non farlo è sprendido e quindi sei sempre con loro e tecnicamente insomma in una sensibilità un po' anomalo avere dei monologhi così lunghi, qualche certezità c'è stata, bisogna dirlo, però poi anche qui abbiamo creduto la storia, abbiamo creduto le capacità, perché io oltre a fare lo sceneggiatore ormai faccio il produsso direttamente ai rai e quando si scende un regista io faccio sempre un'osservazione che spiazza un po', ma è incapace a dirigere gli attori, cioè la tradura di Alessandro, non solo perché è attore, ma perché lo sa fare, non tutti gli attori sanno dirigere i propri colleghi, Alessandro riesce a doppiarsi, l'ho visto anche sul set, certe volte perché lui aiuta molto i suoi colleghi sul set, non è il capo comico e basta, è colui che aiuta anche gli attori sul set a stare accanto a lui e questo è molto importante, lui riusciva a farlo e allora ho detto linguisticamente ci siamo, artisticamente come messa in scena ci siamo, crediamoci, vediamo che risultato c'è e quindi noi ragazzi in monologo non credo in modo più che adeguato. Grazie, sotto l'aspetto dell'epoca, Maurizio e Giovanni, vuoi dire qualcosa? Perché i segreti e le cose e soprattutto la prima parte che io credo sia un po' più scattistica, la seconda è un po' più linguistica, vi ho fatto quest'idea, magari una scopidaggia, però ho la sensazione che sia così, se questo lo vuoi commentare, e soprattutto l'epoca in cui è in qualche modo avventata, si capisce che non siamo all'oggi. Sì, io avevo bisogno di non avere i telefoni, avevo bisogno di non avere di non avere quest'ulteriore, quest'ulteriore isolato all'interno dell'isolamento, no? Cioè quest'ulteriore ritrarsi, quest'ulteriore faccia nello schermo, mi serviva questo, mi serviva una contrapposizione ideologica di Valerio rispetto alla televisione, quindi duro e puro, che non voleva, mi serviva quel po' di conservatore che c'è all'interno di un progressista, perché soprattutto in quell'epoca i progressisti erano molto conservatori, in questi giorni celebriamo il centenario della nascita di Pasolini, sapete quanto Pasolini fosse un esterno anche all'interno del Partito Comunista, al quale aveva aderito? Forse più contrapposizioni aveva all'interno del Partito Comunista che dal mondo cattolico di cui lui era un versaglio fisso. Quindi avevo bisogno di questo. Il resto l'ha fatto Alessandro, Alessandro ha individuato il periodo, lo ha magicamente ricostruito facendolo uscire dal tempo. Cioè è ben chiaro quando e dove sono, soprattutto nei vestiti del Reazzi, di Massimilandes, a un'evoluzione costumistica spettacolare, secondo me. E poi queste due scene bellissime che sono la libreria vena e la libreria vuota. Perché la libreria vena e la libreria vuota significano un disarco dell'anima. Tutti noi sappiamo che i libri sono l'adattamento dell'anima, no? Quindi vedere questi libri e lui sbarrito, che si muove da questi scatoloni alla ricerca delle tracce di se stesso poi alla fine, mette quella tenerezza, quella malinconia che abbiamo provato tutti nel momento in cui abbiamo lasciato posto per andare in un altro. Che è sempre teoricamente per migliorare. Ma nel momento in cui succede è una mutazione, i posti. E quando nel monologo finale Rosa dice che io cercavo le tracce, mi ricordavo che avevamo messo i segni al muro. per vedere la crescita, le ragazze non le ho trovate. Forse abbiamo ridipinto. Mi ricordavo che era caduto il Vaticano, e a Bettina, ed era rotto una mattorella e non la trovo più. Forse l'abbiamo cambiata. C'è tutto il dolente di sacco in quel momento. Cioè, io l'anima me la porto dietro o la lascio qui? Quindi la grande paura di portarsi dietro l'anima o di lasciata in quel posto. È l'anima in realtà. È da lei. Grazie. 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 Grazie.